prima recensione del 2022 in realtà ho già trattato questo film nella recensione combo il consiglio dei cinque film da vedere a natale ma ho deciso di fare una recensione più approfondita il film è io sono babbo natale con marco giallini e gigi proietti girato a ridosso tra la fine del 2019 e inizio del 2020 proprio a ridosso dell'inizio della pandemia è un film tipicamente natalizio un po sullo stile di quei film americani quelle commedie natalizie io sono babbo natale potrebbe essere tanto il mio amico babbo natale ci siamo capiti il tipo di genere marco giallini è una persona un criminale però di basso chiamiamolo livello che vive di espedienti e esce dal carcere e si ritrova che una persona anziana gigi proietti gli dà qualcosa di soldi da quel momento marco giallini entrerà in contatto con gigi proietti che gli confesserà di essere babbo natale di aver bisogno di qualcuno per vari problemi a me già prescinde il fatto che c'è una battuta bellissima che dice io sono babbo natale però non lo dire a nessuno e marco giallini dice o chi me crede a me e l'unico spoiler che vi faccio ma è anche nel trailer del del film vi consiglio di vederlo perché è una leggera la trovate su prime video ed è anche un modo per dare un saluto a gigi proietti perché su ultimo su ultimo film è morto nel 2020 è morto nel giorno della sua nascita se ne è parlato nel 2020 di questa di questa curiosità e guardate è anche un modo elegante alla fine del film per gigi proietti di uscire di scena neanche se lo fosse se lo fosse sentito quindi io ve lo consiglio io sono babbo natale gigi proietti marco giallini e io in questo caso anche se la valutazione sarebbe un po più bassa per il legame che ho e la stima per gigi proietti a questo film do un 5 stelle diciamo alla anche alla carriera per gigi proietti io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao e buon anno